Ciao ragazzi, buongiorno, siamo qui per fare un bellissimo allenamento insieme, tutto a voi, ma voglio ricordarvi una cosa, che il trappolino può essere utilizzato anche quando faccio lavoro a terra, perché il trappolino ci permette di mimare o fare una cosa in contemporanea sul trappolino, il trappolino aumenta i risultati dei nostri sforzi, perché comunque è tutto un motivo metabolico che non va a spiegare, io ti posso garantire che scientificamente provato, stimolo 191,91, 1,91% di fibre muscolare in più, così perdiamo meno tempo, ci protegge l'articolazione, ci permette di mimare al meglio, ci permette di avere più risultati dai nostri sforzi e perché no, l'altra cosa che ci servirà, e vedi là, sono qui due pesi, i pesi possono essere anche bottiglie d'acqua, volendo, possiamo anche aggiungere magari sassi o qualcosa dentro le bottiglie d'acqua, se lo volete aumentare il peso perché non trovate i pesi in giro, e facciamo il lavoro di total body, che sarà, vabbè, cominciamo il riscaldamento, ve lo spiego mentre stiamo facendo il riscaldamento, ok, io farò sul trampolino, ok, noi cominciamo a marcia a terra, marcia a terra, marcia a terra, marcia a terra, e chi sta sul trampolino va in bounce, Allora, io lavorerò sul trampolino perché sto soffrendo un po' con tendinite al ginocchio, e tendinite al ginocchio mi blocco purtroppo il lavoro a terra perché troppo di impatto, invece sul trampolino posso mantenere il mio allenamento, questa è la cosa bella del trampolino, perché ci permette comunque anche con le schiene, di cabiglie, di ginocchio a lavorare, ok, facciamo step touch, 4, step touch, chiudo, e 4, ancora 4, 4 step touch, e 4, andiamo in due tempi, 2, 2, 2, 2, ancora, 4 volte, 3 volte, 2, singoli, ok, singoli, Questo è solo riscaldamento, perché andiamo a fare un total body di 4 blocchi di lavoro, un blocco di 9 minuti di brucia grassi, un blocco di 9 minuti di glutei, braccia, poi facciamo 9 minuti di braccia, 9 minuti di addominali, l'avete detto che vi piace molto questo stile di allenamento, così lo faremo, ok, andiamo a jumping jack, jumping, jump, piccolo jumping, piccolo jumping, tu a terra faresti così, 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 chiudendo e rapprendo, Io lo faccio sul trampolino, io lo faccio sul trampolino, ricordate sempre che il trampolino ti fa lavorare di più, facendoti soffrire di meno, e questo è sempre il mio consiglio per tutti quanti di prendere un trampolino, perché nel mio carriera non ho mai visto niente, darti una gamba più snella, una, diciamo, un corpo più bello, ok, così, apro, chiudo, apro, chiudo ancora, Dammi un altro 4, 4, 3, 2, ok, andremo in knee up, ok, poggio di sinistra, la destra viene su, in avanti, ricordate che sempre le ginocchia devono seguire il punto del nostro ginocchio, Tira, 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 tira su, tira su, continuo, tira su, devo alzarmi la musica poco a poco, che non lo sento, ecco, tira, 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 avanti, ok, vai, tira, tira, questo è solo un riscaldamento, ragazzi, Com'è andata la vostra vacanza? Siamo per rientrare, siamo per ricominciare la nostra vita quotidiana, però anche quello piacevole, a me piace tutte le stagioni, quindi ogni stagione ha qualcosa da offrirci, e quando finisce la stagione, un po' sei quasi contento che è finito, perché dice, ok, basta, va troppo caldo, Adesso ci sarà un po' di fresco, cambiamo la gamba, sfida su, abdominali, anche piccola torsione di abdominali, tira in avanti, tira in avanti, ancora, 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 vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, centro, centro, sci di fondo, spingo, spingo, cambio, vado, 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 cambio, vado, spingo, 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 cambio, vado, 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 torno, centro, fianco, 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 braccio fuori, riscaldiamo anche le spalle un po', perché è molto importante di non lavorare su una struttura fredda, dobbiamo sempre lavorare tutto insieme, per qualsiasi che avremo il massimo del nostro allenamento, vado, vado, ancora, 4, 3, ok, batte le mani in avanti, 4, 3, 2, 1, apro, ancora, 4, 3, 2, 1, apro, di nuovo, 4, 3, 2, 1, apro, e 4, oh, lo fai in due, 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 vai, 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 singolo, pulà, ancora, piccoli, piccoli movimenti nei fianchi, provando di riscaldarsi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ok, guarda, guarda, spinta in su, due e su, due e giù, due e su, due e giù, su, su, giù, giù, su, su, giù, su, su, giù, giù, vai, 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 fai singola, vado, vai, spingo, 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 spingo ancora, 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 quattro, tre, venite di qua e leg curl, indietro, indietro, vado, tiro con le braccia e scalcio indietro, come se stessi provando di toccare il tallone proprio su, il sedere, four, three, ancora, ancora, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, cambio lato, piano piano, cambia, curva, tira, tira, abbiamo un minuto e mezzo, poi andremo a lavorare sul nostro lavoro, brucia grassi, vai, vai, ancora, tira, 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 datemi altri, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, torno al centro, fianco, fianco, proprio incrociate le vostre dita del vostro pollice e tira fuori e senti come si attiva, fuori, 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 in marcia, fuori, 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 tira, 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 tira proprio qua, tira proprio qua e questo va ad attivare tutte le muscolature che volevamo, tira, 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 ancora, ok, 46 secondi ragazzi, 46 secondi, ok, partiamo con il lavoro brucia grassi, lavoro brucia grassi e empiometria o in movimenti molto intensi, ok, allora la prima sarà toe touches, a me piace toe touches perché alzano il battito cardiaco tanto, vuol dire giù e su, ok, questa, se sei sul trampolino puoi fare, aggiungere un piccolo salto, se sei a terra non necessita il salto perché è già tantissimo senza il salto, ricordate sempre che il trampolino ti può aiutare a aumentare l'intensità senza danneggiare o senza gravare sulla vostra articolazione, 4, 3, 2, brucia grassi, andiamo, 50 secondi, vai. Ok, primo minuto di lavoro, su, giù e su, tutti quanti lo possono fare, si è a terra, io sul trampolino, ripeto che io sto lavorando sul trampolino perché mi dà di più e sto purtroppo nutrendo un po' di tendinite sul ginocchio, ok, ok, la mia vita è molto sportiva, molto sportiva, ho fatto un movimento che non dovevo fare e adesso devo rieducare il tendinite, ok, ancora, 11 secondi, 10 secondi, 8, 4, 3, 2, and stop, ok, 10 secondi, si è sentito tutto, ok, jump jack, niente, cliometria, siamo, ok, apro e chiudo, allungo ragazzi, ok, se sei sul trampolino puoi anche girare volendo, ok, però siccome siamo mezza terra, mezza trampolino, la facciamo tutti quanti insieme, respira, vado e vado, 27 secondi, è un lungo, per sé quando facciamo Tabata, diventa ogni passo, dici, wow però, come efficace, gravi sorrisi che stiamo facendo tanto per il nostro corpo, ancora 13 secondi, 12 secondi, questa è la prima fase, bruci e grassi, poi andremo nelle tre fasi tonificanti, 3, 2, 1, and relax, ok, andiamo a fare il cocodrillo, a terra e qua sul trampolino, molto similare, porteremo con il bounce su e laterale con le gamba, vai, ok, vado, 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 laterale, laterale, fai anche un piccolo accorcimento tra le spalle e l'anca, non ginocchia, anca, ma si sente sul punto vita, e siamo al terzo di nove, vai, vai, tira, tira, respira, respira, concentrati, non dimenticare di respirare, addominali tesi, anche se sei a terra, puoi fare un piccolo bounce a terra, vai, 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 ancora 4, 3, 2, 1, stop, ritorno su ragazzi, eccellente, ok, andiamo a fare doppio jump, 1, 2, scendo, su, su, scendo, attento, senti delle destra ginocchia che vanno verso fuori, che seguono dito medio delle piede, ok, la prossima sarà una bella corsa, così a terra batterete i piedi, utilizzando la braccia, 6 secondi, su, il trampolino, 1, 2, scendo, ancora 21 secondi ragazzi, respira, ancora, dopo queste 9 secondi, 9 minuti scusami, avremo un minuto di recupero dove possiamo bere un po' di acqua e prepararci per il nostro prossimo andazzo, ancora relax, ok, la prossima sarà corsa, è lungo, sono 50 secondi così, puoi anche correre più lentamente, però, ok, 50 secondi, muoviti nello tuo spazio, muoviti nello tuo spazio, ok, puoi fare più lento, fai più veloce, se sei su un trampolino, ginocchio viene in avanti, ma anche terra, ginocchio viene in avanti, così ti protegge le ginocchia, e spingi con quella braccia, avanti e indietro, intensità ragazzi, questo è il primo blocco di lavoro, devi essere intenso, perché stiamo bruciando grassi, ancora, ultimo scatto, 15 secondi, vai, 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 5, 4, 3, 2, 1, stop, ok, la prossima sarà un modified burpee, a terra è 1, 2, 3, in su, ok, sul trampolino, stesse cose, 1, 2, 3, su, 1, 2, 3, su, 1, 2, 3, su, 1, 2, 3, su, a terra è 1, 2, 3, in salgo, 1, 2, 3, salgo, 1, 2, 3, salgo, vai, ancora ragazzi, stiamo facendo un bellissimo lavoro, vai, su, trampolino è qua, su, senti come si attivano le gambe, e come alzi il battito cardiaco, lo sentite, no? Ancora, 1, relax, ok, jumping jack, semplice, proprio per un minuto, la facciamo apri e chiudi, a terra le gambe, non stacco, 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 ok, piccolo salto a terra è qua, apro, chiudo, il movimento, lavoro cardio, lo senti il battito che si alza, ok, apro, chiudo, lo sentite il lavoro, anche io, e quanto è figo quando lo senti il lavoro, vuol dire che sto facendo qualcosa per il mio corpo, ed è bellissimo, ancora, 22 secondi, vai, 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 ancora, vai, 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 14 secondi, poi faremo un lungo, facciamo jump squat con twist, ok, ok, si fa in fiometria, 2, 1, and relax, non vuol dire una cosa, che c'è ancora 2, 2, 2 minuti in zona brucia grassi, ok, parte in diagonale, ok, vado, è un lungo questo ragazzi, posso anche andare più lento, più lento, perché quando non è lungo, non sono i 20 secondi di Tabata, è un 50 secondi di Total Body, così, doso la forza, ma anche fermo e poi giro, però provo di continuare il movimento senza fermarla, mettiti alla prova ogni giorno, siete più forti di quello che pensate, ancora, 19 secondi, ancora, 14 secondi, 10 secondi, poi lo finiremo con i nostri toe taps, che mi piacciono tanto perché è molto Total Body, ma non è troppo, 4, 3, 2, 1, ok, l'ultima, quella è la prima che abbiamo utilizzato, tocchi i piedi, e su, 2, 1, ok, ultima, ok, piccolo salto, se puoi aggiungere piccolo salto, fallo, su, senti che anche io sono corta di fiato perché questo è Total Body, quando parliamo del trampolino che non ti è cuocere il fiato e quando c'è un pompaggio contestante, ma quando mettiamo i fermi come in pliometria, lo senti molto più il lavoro, molto più il lavoro, 22 secondi, dai, stiamo facendo un bello, bello, bello lavoro, 14 secondi, poi la prima blocca di lavoro è andata, e andremo a concentrarci sui nostri braccia e petturali, ok, ok, prima blocca di lavoro è andata, quanto sono orgogliosa di voi? respira, 2, 1, e pausa, un minuto.